Orrore nel napoletano. I carabinieri della stazione di San Gennaro Vesuviano in provincia di Napoli hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione di misura cautelare personale messa dal GIP del Tribunale di Nola su richiesta della locale Procura della Repubblica nei confronti di una quarantenne di un 26enne di San Gennaro Vesuviano, conviventi indagati a vario titolo per maltrattamenti contro familiari o conviventi e violenza sessuale aggravata. Le indagini condotte dalla stazione di San Gennaro Vesuviano hanno consentito di accertare che da diversi mesi una minore di 17 anni disabile avrebbe subito reiterate violenze e condotte vessatorie dalla madre e degli atti sessuali da parte del compagno della stessa, i quali sono ora sottoposti nell'ordine al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima e agli arresti domiciliari.